Al Migaghelli e Angelana Branca per la sesta giornata di eccellenza. Prima grande occasione del match per gli Egubini. Angolo di De Iulis, Rossi sforbicia al volo in piena area, prodigioso riflesso di Buini che salva l'Angelana. L'episodio decisivo si materializza alla mezz'ora. Avvolgente trama a Sisana che isola Paladino sulla destra, dribbling secco su Lilli e succosa assistenza per confessore che sottomisura porta avanti l'Angelana. Si chiude così la prima frazione e la ripresa si conferma tinte giallorosse. Prima Lapazio e Reattivo sulle conclusioni di confessore e vent'anni che sulla respinta calcia peraltro alto una macroscopica pallagol. Poi la partita ha anche un inciso nervoso fra pubblico e panchine prima dell'epilogo finale in cui l'Angelana chiude il computo con il destro incrociato di Giardella per il 2-0. Tre punti che consentono agli Assisani di portarsi a quota 8 e sorpassare il team Brancaiolo fermo a 7. Nel prossimo turno in programma Nestor Angelana e Brancaellera. Male, troppo male per essere vero veramente. Mi ne assumo tutte le responsabilità. Abbiamo fatto non bene il primo, malissimo il secondo, una grandissima confusione, non siamo riusciti ad abbozzare una minima reazione. Chiesto ai ragazzi una prestazione che ci doveva far capire chi veramente siamo, perché io li vedo durante la settimana e vedo delle cose importanti.